Passiamo a presentare Piero Soschiavon, centrocantista. Ringrazio prima di tutto il Presidente, il Direttore della società Avellino per essere qui. Rispondo che comunque sono 42 partite fondamentali e 42 partite difficili. Non è facile il campionato di Serie B, però credo che tutti noi abbiamo voglia di far bene. Quindi cerchiamo di dare il massimo giorno dopo giorno. E cercheremo sicuramente di fare il meglio possibile. Secondo me, le dico comunque, noi siamo dei giocatori, siamo a disposizione del mister. Siamo qui per dare il meglio e fare del meglio. Poi le decisioni le prenderà sempre il mister. Noi siamo pronti. Adesso faremo due o tre settimane di ritiro, poi il resto ci penserà il mister. Tabù esistono, va sfatati, non c'entra niente. L'importante secondo me è che ognuno di noi dia il meglio. Una volta che ognuno di noi dia il meglio, sicuramente si arriva a fare obiettivi e risultati importanti. Questo è. Mi serisco molto. Infatti quest'anno ho fatto sei gol. Un bel bottino per me. Eh? Ragazzi? Ragazzi? Sentite! E comunque faccio anche molto bene la fase difensiva perché sono tutte e due fasi importanti nel campionato. Bisogna fare bene sia una anche l'altra. Sì, assolutamente. Prima di tutto dobbiamo fare gruppo, dobbiamo allenarci bene. Questo mi ha insegnato sicuramente il Cittadella. Io cercherò di portare il massimo e di fare il massimo. Io... Io da fuori tiro parecchio. Se non riesco a trovare una soluzione davanti, io tiro parecchio da fuori. Infatti non ho fatti parecchi. Mi dispiace per Romulo perché magari mi faccio passare la palla e poi io calcio. Prendi anche. Non è mancata... Non è un'attentionista. Non è un'attentionista. Non è un'attentionista.